350 ore di lavoro donate, più di un terzo delle lavoratrici e dei lavoratori di Enaip, di Feltra e Longarone hanno risposto così alle necessità della montagna bellunese, già provata dagli effetti degli eventi meteorologici estremi del passato e era di nuovo in ginocchio per la pandemia. Alla richiesta di stringersi in un abbraccio nei confronti di chi si trova in difficoltà, lo slancio è stato incommiabile. Sentiamo tutti nel nostro cuore la difficoltà di tutti i cittadini che vivono oggettivamente una difficoltà di ordine economico che è quella semplice di arrivare a fine mese, di poter avere i soldi per fare la spesa. La raccolta ha fruttato 7.000 euro, una goccia nel mare si dirà ma è pur sempre un segno tangibile della solidarietà che nel bellunese non conosce confine e che suggella il legame storico tra lenti di formazione e il territorio. Queste risorse noi le utilizzeremo all'interno del Fondo Welfare che permetterà di avviare tutta una serie di progetti che hanno come obiettivo la ripartenza di questo territorio dopo la pandemia, mi auguro, nel più breve tempo possibile. L'assegno simbolico destinato al Fondo Welfare è stato consegnato questa mattina. Io oggi qui non ho il ruolo di amministratore delegato ma quello di rappresentare tutti i lavoratori di Enep che hanno donato. La nostra donazione è avvenuta a febbraio e in quel mese abbiamo raccolto circa 7.000 euro. 7.000 euro, un euro per ogni metro quadrato occupato per la formazione e l'educazione. Sarebbe bello immaginare che ognuno donasse un euro per ogni metro quadro. Sarebbe un segno del nostro Veneto vicino alla nostra montagna perché la nostra montagna è la nostra montagna del cuore.